Buongiorno, in questo video vi farò vedere 5 idee regalo sotto i 20 euro e sono tutte idee regalo beauty o meglio tutte tranne una visto che me l'avete richiesto in tantissime e sono tutte cose che trovate in venta d'antigotà sia online che nei negozi prima di farvi vedere queste idee regalo vi ricordo come sempre di mettere un bel pollice in su a questo video ed iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto cominciamo dalla prima idea regalo che è un cofanetto se mi conoscete sapete quanto io amo i cofanetti li trovo veramente un'idea regalo perfetta perché all'interno si trovano sempre più prodotti e quindi insomma sicuramente la persona che li riceve non può non apprezzare e poi mi piacciono tantissimo anche i cofanetti che hanno delle belle confezioni che poi magari si possono utilizzare di nuovo come ad esempio le scatole di latta come questo bellissimo cofanetto di la bioteca italiana mandorla bio con all'interno 5 prodotti perfetti anche per tutte le persone amanti del bio per tutte le persone molto attente all'inci infatti i prodotti appunto sono vegani e sono bio questi sono i prodotti che si trovano all'interno come vedete sono 5 e c'è un sapone liquido, un olio corpo, uno stick labbra, una crema mani e poi una crema corpo nutriente quindi diciamo tutti i prodotti per poter prendersi cura della propria pelle sia del corpo che delle mani che delle labbra che tra l'altro è importantissimo curare in generale tutto l'anno ma in particolare direi quando fa freddo perché si sa che con il freddo la pelle tende a seccarsi maggiormente e quindi è ancora più importante prendersene cura ed è ancora più importante mantenere la bella idratata passiamo ora a un altro cofanetto e sì ve l'ho detto che sono fissata con i cofanetti e questo cofanetto è di Leidria di Argan e Argan e all'interno ci sono due prodotti corpo buonissimi tra l'altro e sono il bagnoschiuma assetificante e il fluido fondente corpo e sono entrambi in un formato viaggio perché sono entrambi di 100 ml e quindi questa secondo me è una bellissima idea regalo soprattutto per tutte le persone che partiranno magari durante le feste che andranno in vacanza questi prodotti hanno il 98% di ingredienti naturali e sono senza siliconi, senza parabeni, senza oli minerali cambiamo genere, passiamo ai profumi e se mi conoscete sapete quanto mi piacciono i profumi e quando ho visto questo profumo sono impazzita cioè quando l'ho visto ad ecotà ho detto ok non posso non inserirlo nel mio video dei regali e sto parlando di questo profumo parliamone cioè quanto è bello che si chiama Oh My Unicorn il packaging è bellissimo il profumo poi anche molto buono è parecchio dolce quindi lo consiglio sicuramente ve lo consiglio se dovete fare un regalo a una persona comunque che ama le profumazioni dolci e in quel caso insomma secondo me è veramente una bellissima idea regalo passiamo alla prossima idea regalo e torniamo ancora una volta a parlare di prodotti corpo vi vorrei far vedere questa maschera corpo levigante cocco e riso bio di Natir anche in questo caso parliamo di un prodotto bio all'interno quindi si trovano farina di riso e farina di cocco quindi uno scrub che potete fare sulla pelle magari sotto la doccia che aiuta quindi rimuovendo le cellule morte a levigare la pelle a idratarla e anche a tonificarla passiamo ora all'ultima idea regalo per oggi non è un'idea regalo beauty a differenza delle altre è una candela e non potevo non inserirla perché ne sono innamorata sto parlando di questa candela che è la gelsomino d'inverno della fragranteria oltre a profumare di gelsomino ha delle note floreali e muschiate e ve le leggo dal sito allora dice ha sentori di fresia, caprifoglio e muschio bianco e ripeto ha veramente un profumo buonissimo ed è secondo me una perfetta idea regalo per tutte le persone amanti delle candele amanti delle profumazioni per ambiente è perfetta sia se volete fare un pensierino quindi un piccolo pensierino sia anche se magari la volete regalare insieme ad altri prodotti appunto creando dei kit regalo e questo per oggi è tutto spero che queste 5 idee regalo vi siano utili aspetto come sempre i vostri commenti quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste idee regalo che vi ricordo ancora una volta potete trovare dati gotà sia online che nei negozi lascio qui sotto nell'info box i link a tutti i prodotti e tra l'altro una cosa che non vi ho ancora detto è che quando fate l'ordine online potete scegliere se riceverli a casa quindi potete scegliere tra la spedizione a casa oppure il ritiro in negozio quindi ecco questa secondo me è una cosa molto comoda perché potete scegliere appunto l'opzione più comoda per voi io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel mio prossimo video ciao